Poca frutta e verdura nella dieta, in particolare quella ricca di antiossidanti flavonoli, favorisce la perdita di memoria legata all'età. Un multivitaminico ricco di sostanze chiamate epicatechine combatte gli esiti di questa carenza, migliorando la memoria fin del 16% rispetto a inizio studio. E quanto suggerisce lo studio Cosmos pubblicato già la scorsa settimana su The American Journal of Clinical Nutrition. Lo studio mostra che con una integrazione multivitaminica migliorano i punteggi dei test progettati per rilevare la perdita di memoria dovuta al normale invecchiamento, suggerendo la possibilità di utilizzare diete o integratori ricchi di flavonoli per migliorare le funzioni cognitive negli adulti e negli anziani. Se la perdita fisiologica di memoria è in parte dovuta a differenze nel consumo di flavonoli con la dieta, allora l'integrazione degli stessi potrebbe sortire un miglioramento ancora più marcato della memoria nelle persone che iniziano ad assumere il multivitaminico già a 40 e 50 anni, concludono gli autori della ricerca.